In questa puntata, seduta solenne per il giorno della memoria, disforia di genere, audizione in commissione e sanità. I sapori del Mugello a casa Sanremo. La seduta solenne del Consiglio regionale per il giorno della memoria si è svolta mercoledì 31 gennaio al Memoriale Italiano di Auschwitz di Firenze. Secondo me è stata una scelta molto felice viverlo qui al Memoriale di Auschwitz su cui dal 25 luglio dell'anno scorso ricorrevano gli 80 anni della cacciata di Mussolini dal ruolo che lo portò in modo devastante a tutto il male che l'Italia ha vissuto con i nazi fascisti, le deportazioni, le uccisioni degli ebrei, 6 milioni e mezzo di persone scomparse nei campi di concentramento e di sterminio. Auschwitz c'era e stava passando in qualche modo con scarsa manutenzione a un livello di progressiva consunzione questo memoriale. L'abbiamo portato qua a Firenze, 3 milioni di euro, l'acquisto, la ristrutturazione dei locali, l'immissione di tutte queste immagini e quindi oggi va fatto conoscere la regione di 3 milioni ci ha messo 2 milioni e mezzo e qui possono venire le scolaresche, tutti i cittadini, rendersi conto con suggestioni e emozioni dati dalle foto, dai documenti ma anche dalla multimedialità di questo ambiente di quale è stato il dramma che nella seconda guerra mondiale ha portato i nazi fascisti alla distruzione etnica da un lato degli ebrei ma dall'altro dei dissidenti politici, dei rom, degli omosessuali, dei disabili. Insomma la memoria perché non accada mai più. Abbiamo voluto ricordarlo in un luogo simbolo, in un luogo simbolo per Firenze, per la Toscana, in un luogo in cui si ricordano attraverso le parole e le immagini quanto orrore sia stato compiuto dal regime nazi fascista. I campi di sterminio, tutte le violenze subite dalle comunità ebraiche, dai rom, dai gay, le deportazioni, milioni di donne e di uomini uccisi barbaramente. E noi abbiamo un compito, oggi che purtroppo i testimoni della memoria sono sempre meno, di diventare noi amplificatori di memoria, di fare in modo che questi luoghi siano sempre più visitati dalle nostre scuole, dalle studentesse, dagli studenti. Credo che prima di tutto sia un segnale molto importante anche in questo momento particolare che non solo si vive nel nostro paese, ma si vive nel mondo intero. Io quando ho fatto il mio intervento oggi ho spiegato che noi dobbiamo riconoscere la genesi dei segni del male, perché ad Auschwitz è il punto finale, ma si arriva ad Auschwitz sempre con delle tappe di preparazione che possono portare al male estremo. E oggi noi viviamo in un mondo estremamente pericoloso, perché abbiamo la Cina che vuole invadere Taiwan, la Russia che ha invaso l'Ucraina, la Corea del Nord che vuole invadere la Corea del Sud, le guerre in Medio Oriente, abbiamo attacchi alla democrazia, non sappiamo come andranno le elezioni americane. C'è una situazione, credo, molto differente da quello che era prima, perché prima noi avevamo un'idea in sostanza di una pacificazione del mondo dopo l'89, pensavamo che finissero le guerre, che ci fosse la collaborazione internazionale, che la globalizzazione facesse diventare tutti amici. Invece oggi ci sono nel mondo grandi segni del male, quindi oggi il problema, anche quando si fa la giornata della memoria, è di pensare il passato guardando al presente, perché il passato serve al presente, perché se non serve... E oggi io credo che noi dobbiamo lanciare un messaggio non solo alla politica, ma soprattutto ai cittadini, alle persone comuni, ai giovani, all'insegnante, agli educatori, un messaggio affinché ognuno si prenda delle responsabilità in questa crisi che c'è oggi. Ed è per questo un po' che in tutti questi anni la mia fondazione, ma in realtà è una specie di missione italiana, è quello di creare questi giardini dei giusti in tutte le città, non solo in Italia, anche all'estero, per mostrare, diciamo, le persone che si assumono una responsabilità. Due interrogazioni dell'opposizione, una mozione per chiedere l'audizione del team di medici che si occupa di disforia di genere all'ospedale Fiorentino di Careggi. Il centro-destra ha anche polemizzato per l'assenza dell'assessore alla sanità Simone Bezzini. Noi siamo rimasti veramente meravigliati e devo dire anche molto indignati rispetto a un voto del Partito Democratico che ha detto no, no, all'audizione in commissione dei medici che guidano il centro per la disforia di genere a Careggi. Dopo settimane di inchieste, dopo che Careggi è andata, e quindi Firenze, la Toscana, il sistema sanitario regionale, su tutti i giornali nazionali e internazionali, su tutte le televisioni, per un tema molto importante che riguarda i bambini, il cambio di sesso dei bambini. Oggi ci viene detto al Partito Democratico no, in audizione, in commissione no. Hanno votato contro alla mia richiesta, ormai sono settimane che chiediamo chiarezza su questo aspetto. Addirittura a Careggi sembrerebbe vengono trattati con un farmaco che si chiama triptorelina, bambini di 11 anni. Quel farmaco blocca, un farmaco bloccante, off-label, che viene usato per curare la prostata negli adulti, nei bambini viene usato per la disforia di genere per bloccare la crescita ormonale. I dati sono molto allarmanti. Nel 2023 quasi 160 bambini entrano e quasi 30 bambini vengono trattati con questo farmaco bloccante, del quale non si conosce gli effetti negativi sui bambini nel trattamento per la disforia di genere. E' chiaro che per noi era importante avere un punto di chiarezza. Vengono curati o non vengono curati? Lo psichiatra infantile c'è o non c'è? E' vero che le sedute dello psicologo vengano fatte online? La domanda che ci sorge è ma è mai possibile che con sedute online si riesca a capire un bambino di 12 anni se veramente in quel bambino c'è una volontà per cambiare sesso o non cambiare sesso? Insomma ci sono ancora tanti punti oscuri in questa vicenda. L'unico punto certo è che il Partito Democratico non vuole fare chiarezza e che l'assessore Bezzini su una vicenda così importante non è venuto in Consiglio regionale. Quell'audizione è già stata decisa, sarà prestissimo convocata. L'ufficio di presidenza della commissione dedicata ai temi della salute, che è la terza commissione del Consiglio, ha già deciso una volta che verrà inviata la relazione degli ispettori e di fare i dovuti approfondimenti. C'è quindi sembrato un atto ideologico, un qualcosa volto più a marcare una bandierina, a mettere una bandierina piuttosto che avere la vera volontà di approfondire un tema a cui nessuno si sottrae. È un tema che è veramente complesso e che va affrontato, in modo di vedere, con grande rispetto. Un grande rispetto verso i professionisti e soprattutto un grande rispetto verso le famiglie che attraversano questo percorso, verso i bambini, i genitori, cioè tutti quelli che sono coinvolti all'interno di questa dinamica che il Ministero ha deciso di approfondire e alla quale la Terza Commissione ha già deciso di non sottrarsi. Non siamo evidentemente su Marte, noi siamo in questa città, siamo in questa regione e insieme anche al collega dell'opposizione che siede in ufficio di Presidenza avevamo già deciso dalla settimana scorsa di fare questo approfondimento. Era un voto che quindi chiedeva un qualcosa che era già stato deciso e che era stato già deciso da una convergenza tra maggioranza e opposizione. La nostra posizione è a favore del lavoro che anche il Presidente della Commissione Sanità ha già preannunciato di voler fare e di stare attuando, ma soprattutto perché il tema in aula ha riguardato i minori e sinceramente crediamo che sia opportuno non cavalcare un tema di questa portata, di questa delicatezza che riguarda dei minori solo per un problema ideologico. Quindi è bene approfondire e capire che cosa c'è sotto, se c'è veramente un problema, qual è la ragione per cui questi farmaci vengono somministrati a dei bambini, però evitiamo di farne un cavallo di battaglia per propaganda politica e basta. Io credo che sia fondamentale andare in fondo e mi sono anche pronunciata con una nota di biasimo verso l'assessore alla Sanità Bezzini che oggi doveva venire in aula a rispondere a determinate domande. Poi è ovvio che gli animi si riscaldano se tutto viene coperto, non si danno le risposte adeguate, quindi se non c'è niente da nascondere è bene che anche gli assessori si prendano le loro responsabilità nel rispondere semplicemente a delle interrogazioni e si nascondono sempre dietro alla scusa che hanno degli impegni ma che esiste il Consiglio regionale ogni 15 giorni, lo sanno tutti. Io penso che sia doveroso che il Consiglio regionale, che la Commissione Sanità della Regione Toscana si occupi del fatto che a Careggi viene prescritto un farmaco come la triptorelina che è un farmaco antitumorale per il tumore alla prostata per i bambini di 10, 11, 12 anni. Voglio capire se quando si prescrive a Careggi una bambina o un bambino di 10 anni di cambiare sesso lo si fa in maniera prudente, con cautela e soprattutto se ci si affida al giudizio di quello che è lo specialista ferrato in materia, che è il neuropsichiatra infantile. Vorrei ricordare che per i minorenni sotto i 18 anni lo specialista che si occupa di situazioni psichiatriche, di patologie psichiatriche, quale la disforia di genere è ritenuta è il neuropsichiatra infantile. Io voglio sapere da cittadino toscano, da padre, da consigliere regionale se quando si decide che una bambina o un bambino debbano cambiare sesso a 10, 11, 12 anni ci si avvalga anche del contributo di un neuropsichiatra infantile. Vorrei capire se quando si decide di prescrivere un farmaco antitumorale che può bloccare la crescita ossea, che può avere conseguenze in ambito di fertilità, in ambito psichiatrico, in ambito cardiovascolare, lo si fa con la dovuta cautela e con la dovuta cautela. Si chiama Casa Sanremo e sarà la casa ufficiale del Festival di Sanremo in programma dal 6 al 10 febbraio. L'evento è arrivato quest'anno alla 17esima edizione. Martedì 6 febbraio vedrà protagonista anche il Mugello che presenterà i prodotti tipici del territorio. La grande vetrina del Festival di Sanremo per la prima volta ospiterà un territorio toscano, ospiterà il Mugello. Proveremo a raccontare storia, cultura, buon cibo di questo che è uno dei più bei territori della nostra regione. Lo faremo portando le eccellenze culinarie del Mugello. Lo faremo anche sostenendo un'iniziativa che è quella di continuare a tenere alta l'attenzione su quanto accaduto purtroppo pochi mesi fa nella piana fiorentina e quindi uno dei piatti sarà la pecora che è proprio il segno di riconoscimento di questo territorio. E' anche questo un modo di saper tenere insieme storie, arte, cultura, bellezza, buon cibo ma anche il valore che è quello della solidarietà che è un valore proprio della Toscana. Beh sì, per noi è una grande occasione di promozione territoriale il martedì 6 febbraio gestiremo il ristorante di Casa Sanremo proporremo una serie di piatti tipici del nostro territorio quella per noi sarà l'occasione per parlare delle bellezze del nostro territorio non solo la parte enogastronomica che pure è molto rilevante ma l'aspetto culturale il buon vivere la natura che circonda ogni abitato del Mugello insomma per noi sarà l'occasione per proiettare la nostra dimensione territoriale in una arena ampia nella festa italiana qual è quella di Sanremo i piatti principali saranno i tortelli mugellani che caratterizzano un po' tutti gli elementi del nostro agroalimentare il Mugello come anche le carni allevate quindi ci saranno delle battute di carne da assaggiare però è anche vero che il nostro proporsi come Mugello vuole anche tenere alta l'attenzione su quello che è accaduto sia in Mugello che nella Piana e quindi i nostri piatti saranno anche abbinati con la pecora in umido per ricordare di porre l'attenzione su territori come Campi Visenzio e quindi una vetrina importante internazionale di comunicazione ma che alla fine servirà anche nella preparazione dei pasti anche per far vedere che i nostri territori dell'area metropolitana sono uniti e quindi anche che con Regione Toscana e il Consiglio regionale non andiamo diciamo in ordine sparso ma siamo tutti un elemento di un sistema importante che è quello della nostra regione Toscana insieme ai territori dell'area metropolitana ed è Mugello in un'area metropolitana e in un'area metropolitana